ciao amore ti invito un cazzo tacci comunque te fa sempre c'è una torcia ok oh sto seduto però sta cosa si può prendere vedi era quella che ci mancava andiamo a prendere il libro vedi si vede allora io ho poggiuto qua vedo più niente no intanto ce n'ho uno qua ah c'è questo foglio questo lo prende accendino lo togliamo non è qui non era da bruciare allora poi abbiamo fatto allora questa mi pare che va qui ok questa qui guardate questo no perfetto ok adesso faccio tua la ragazzina si oh no io c'entro qua dentro mamma mia ferma di tanto no oh no no che è? emotiva emotiva che è? awaits Che è successo? Oh, ora vado No, io qua dentro non c'è posto Aspetta Aspetta, io mi metto qui Tu c'hai paura? Stai lì sul divano, so io che sto dentro Ma io ho paura che se noi usciamo da questa porta E non hai preso qualcosa dentro Ti sei lì dalla porta, non ti si apre Sì, guarda che schiette là Vabbè, io devo tornare indietro, lo sa No, io non vorrei che mi cago sotto No, il problema sa che adesso inizia un altro gioco, secondo me Adesso ti passo a te giustamente il comando Allora, ragioniamo, perché qui bisogna Se può chiudere sta porta, intanto giusto per stare un po' più Un po' più tranquillo, no, un cazzo Vediamo se mi ha aperto sta porta Non c'è tua Questo è il bagno, no? Il bagnetto La chiave l'abbiamo presa Qui c'era un trato, non c'era niente Eh, ti ho detto che le leva ste mani del cazzo Mi sta toccato per chi non vede Non ti hai sbagliato a me davanti Che cazzo è che, che cazzo è tua, eh Che dici, se non si apre o Ah, ecco, ammazza pure io però Vabbè, c'è un po' di tensione, giusto pure, eh Non è che mica stavo a giocare Allora Perfetto Sì, la casa viene un po' più buia È vero? Mh Vediamo se il televisore ci fa vedere qualcosa Ecco qua Questo chi è? Questo è il padre Questo è il padre Sono sottucchiati qua Questa poi, no? E' questa qua Che è aperta poi Eh, c'è Eh no, ce vado Io so coraggioso Tanto a te che cazzo te frega Vado dentro io Sì Allora Il padre si è capito che giocava a football Sì Diciamo che questa è proprio la stanza del padre Allora, là dentro Secondo me il padre ha fatto una brutta fine Si è capito Io che sta, aiuto Mi chiudo dentro Allora, qui intanto la batteria me la prende Vado qua Vediamo se apre Oh Ok Qui si apre qualcosa No, ho visto, sa E il padre ha fatto una brutta fine Porca troia Ma vicino, sa Oh, è zitto Tu dove? Ecco qua Bravo, sa Ho presa Allora me ne vado Allora No, a me ne vado No, è zitto No Eh Eeeh Adesta Da qualche parte Da qualche parte Adesta Esist se ti apre qui la chiamata non può stare a vecchia non capisco il problema adesso fermate stiamo vicino alla vicina ok questa qui è la stanza questa che era chiusa così? no, giù al fondo c'è una stanza che non si apre dove? lì? si che non ti fa qui qua? si davanti questa? non so se questa ti apre ancora o no non so come ti ricordi tutto sei sicuro che era questa? no, è questa qui no, è questa che è mancata da quando non ce l'apre e non sbacchia su no, è questa qui questo era così? no questo è un'altra c2 si, è questa eh è questa qua, dai da ammariare no, che palle no, che palle no, però c'è la via ecco, non ti fai i cazzi tu eh oh my god oh, purello questo si arsa cosa dici te che devo entrare? eh sì, perché se ti apre la stanza ti entrare eh sì, cazzi, lo dici te non vedi che è questo? ma poi lo cuccio in tarsano non mi fa questo non mi fare questo no, ma purello, ma... eh, lo sapevo che me sta mu... guardaci tu, mi ha muzzicato una gamba allora certo, ho al bagno sti quadri allora allora questo che è? forse la foto dentro la stanza te... quindi... questa? questa si è aperta da sola come si è aperta da sola? questa è la via aperta mannaggia la morte vabbè però questa ci siamo stati si ho però queste mani qui che me le trovo davanti eh sì a destra ok rimane così il blu sta bene chiudiamo si che poi chiude le porte tanto non so che... ecco qua dai fammi vedere qualcosa si 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 piano 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 allora questo è in cd che non posso prendere questa non la posso prendere no questa madre che sta qui mortacci tua era questa oh sto cazzo di tua a me mi prende un cazzo no eh mo accendete la luce accendete la luce aia non lo so se non ci sto a capi in cazzo ora vedo abbassà sei via? ecco qua no che metti in tasca vedete che... vabbè questo lo leghiamo aspetta bah che dico va no mi fa passare qui eh no come faccio? eh no come faccio? vedete qual'è la stanza questa? ma guarda che Andre guarda si è stato armato vedi? quale? ah quello la bravo se... se... no lo ricordi bene il gioco eh? è il cane è il cane è la stanza di... e no niente di che eh era solo sto... no vai dritto dove si è alzata l'armadio cioè oh vai da qua eh dove si è alzata l'armadio? allora va dritto va dritto c'è mi ha anticipato un attimo stavo... apri... no c'è la testa c'è la testa hai visto? ti mancava? è la ragazzina e quella chi è? chi è? ma è un manichino che è? lo sai che adesso tocca a te? no tocca a te no tocca a te no adesso se sei uomo qui adesso tu... io prendo la testa ma tu vai su io prendo la testa no guarda che figata la testa che dici? è la ragazzina in piano perché c'è la testa del padre portegli la testa su dai no la porti su ma che amico sei? portegli la testa se sei uomo ma merda sai? vai vai tocca a te dai è giusto dai eh aspetta aspetta tu vabbè ma la posso buttare sta testa? no la ha buttata la testa ma che la dove viene? ma io la devo portare la testa adesso no? che cazzo è vai via può si raccoglie? no spiegate quel cerchio che cazzo si è ecco ah che attraeci eh perché me lo ricorda ma voglio lasciare la testa è un temore è un temore temore voglio curarvi così così e c'è pure l'audito non me ne quanto è brutto ma guardate che guarda dentro come è fatto bene niente niente guarda qua sotto andrea posso... posso salire? speri un secondo eh c'ho paura vai vai vado? si ehi ma quello che è? allora basta questa oh ma io che sta testa andrà che sia da fare mano ma è brutto? però mi fa rumore strano ecco perché qua ma vuoi calare ragazzino andrea? la vedi? poco aspetta ma se ti porta la testa sembra brutto ma che sta cumpleando? dove c'è la testa? porca madonna ti ho addolorata aspetta dove cazzo sta questa testa? eh allora ma gliela ho portato ma vedi la ragazzina te? ma io ho paura a portargliela la testa aspetta aspetta ma io ho paura ma io ho paura ma io ho paura perchè hai tu fatto una chiesta? eh ma io ho paura ma io ho paura ma io ho paura un altro Oh mio Dio! Ah! Porco Dio! Ma io ho veduto pure la testa! Andè, che faccio con questa testa? Andiamo! Aspetta, aspetta, ne sto là! Subiamo? Sì! Guarda, l'avrò la vista! Ma che cosa? Non vedi si è aperta la porta? Aspetta un attimo È tutto appannato! Adesso vado bene! Vedi che quella si è aperta? Eh, ma si è aperta la porta? Prima era chiusa, no? Vedi che si è aperta lì? Mamma mia! Questa è quella che c'è sul libro! Che roba! Che roba! Ma che foto è? Ma che foto è? Ok! Ok! Muoteremo di andare? Là sotto! Ma non vedi il muro qua! Oh! Maffa! Non vedo più niente! Mi ha bloccato, vedi? Non mi fa scende! Prima no! Vero André? Quando sono uscito dalla coppessa della cassetta Ma ha bloccato! Questa è quella del padre! Io vorrò andare in cucina! Proviamo ad andare là! Non si che avevamo preso tutto! Oh! E vibra tutto! Aspetta! Che buona roba! André? Ma ragazzina, vedi? C'è la madonna! C'è la madonna! Allora! Non voglio tutta rubaccio! Oggi troppellarsi! C'è la madonna! Che gļo! Cosa! Cosa! E' la madonna! Cosa! 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 Unila! Poi, proviamo questo. Ecco. A voi? Che palle però Au E' il barattolino Ma è il pupazzo Dov' sta il pupazzo Dov' sta? Non c'è sta Non c'è il pupazzo Ma io me lo metto Ma da che metto? Eccolo mi è cascato per terra Aspetta Guarda che cazzo c'è in mano Guarda il barattolino Oh Oh una candela Chiedo che lo chiede a lui però Perchè tanto se non me la Codiamo come si sa la candela Che cazzo c'è il lumina Dai eh Puoi dire il barattolino è un'altra Guarda qua qua Che cazzo si illumina? Guarda la baffanculo C'ho tre cose Guarda che mellumina Ah Ah Capolo Non è l'unica a questo Bregati No la baffanculo Mi l'ha messo là No Vaffanculo Ma a caso Sta mannaia Che la metto la mannaia Ammazzo Mi rivola tutto Mi rivola Mi rivola La mannaia La vedi la mannaia Te No porco dio Non ce l'ho fatta No ce l'ho fatta O no Perché non mi fa camminare Cioè gli si è aperta la porta Non cammina però Tu C'è un culo 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 Adesso si Adesso no Taccitua Sta bastarda C'è un culo